bella raga sono metal matteo e siamo in un nuovo video in questo video e voglio parlare con i fan allora in questo video qua sarà un video molto serio ma molto serio perché io non ce la faccio veramente più allora voglio chiedere scusa dal primo momento cioè proprio subito alle persone che non sono miei fan quindi che queste cose non le sanno lo sanno solamente le persone che mi seguono dall'inizio quindi mi fan vabbè adesso vi spiegherò ogni cosa è vero che ci sarà il film di player one in questo momento no perché ho scritto così non è andate bene dal video perché capirete ogni cosa è possibile che io metto veramente questo film sì questo sì però ascoltate ogni cosa fino alla fine del video allora io voglio dirvi che io non ce la faccio veramente più con i miei scritti perché i miei scritti mi stanno prendendo per il culo ma non prendere per il culo il senso come gli haters che ti dico sei gay sei quella sei quell'altro a me non me ne sbatte proprio mi vada un orecchio e mi vada all'altro non è assolutamente questo il discorso io non ce la faccio più perché l'ha preso per il culo un'altra ok io veramente ci ho provato riprovato a risolvere questo problema senza fare questa cosa ma però era l'unico metodo a quanto pare per avere l'attenzione dei miei scritti allora alle persone che non mi che non mi come su dire che non mi conoscono devo spiegargli anche a loro cosa cosa succede cosa non succede allora la cosa succede così allora io come vedete io c'ho 1500 io ce ne avevo prima 2000 quindi io i miei scritti sono andando indietro in prossimo andare avanti perché perché i miei scritti si sono iscritti a me perché io ero riuscito a fare una cosa speciale diciamo che gli altri youtuber non erano riusciti a fare ero riuscito a diciamo così fregare youtube e mettere i film del cinema su youtube avevo messo baby boss avevo fatto questo metodo e dopo è venuto il puntiferio cioè proprio nel senso positivo che milioni di commenti tutti positivi mail erano venuti il tantissimi piace abbiamo arrivati in pochissimo tempo a 500 mila visualizzazioni il guarda veramente di tutto veramente sembrava una specie che in modo di dire in modo di dire una specie di favij in modo di dire allora veramente era una cosa assurda proprio sembrava veramente chissà ovvero avere successo cosa è successo dopo youtube quando c'è stata la giornata di vasco rossi sapete quando vasco rossi è andato a fare modena park proprio in quel giorno è successo una cosa tipo le dieci e mezzo alle undici di sera mi è arrivato un email con scritto che io youtube me l'aveva cancellato per copyright il copyright per dirvi la verità del tutto io il copyright quel video ce l'aveva perché ci sono tanti tipi di copyright c'è quello piccolo c'è quello grande c quello che ogni tipo di copyright quello che aveva il mio era piccolissimo infatti poteva vederlo quasi tutta europa con il mio metodo che avevo fatto quasi tutta europa poteva vedere il mio film non si poteva vedere tipo in america o cose del genere ma a me mi bastava solamente l'italia e ero proprio a posto allora quando l'hanno bloccato i miei iscritti cosa hanno fatto i miei iscritti ne andò poi pian pianino sempre me sono arrivati sempre meno commenti sempre meno internazioni sempre sempre che scode sempre più indietro sempre più indietro sempre più indietro il io ho detto vabbè sarà così e forse perché facciamo un altro video facciamo un altro video che dopo si risolve però io sono andata avanti così per tantissimo tempo tanto tanto e per tanto adesso gli iscritti che ho anche se sono ancora mille e cinquecento e passa le mi fanno venire nervoso perché io ho così tanti iscritti diciamo e me ne vengono nove ok le a me questa cosa qua mi sa proprio di presa per il culo perché e non è possibile che se io ti metto un film le in come tipo hanno fatto baby boss in meno due secondi le aveva eravamo arrivati a 500 mila visualizzazioni e se io ti metto un video normale tu mi fai nuove visualizzazioni questa cosa qua non sta nel cielo né in terra quello che voglio dire è che se tu mi devi apprezzare mi devi apprezzare per tutto quello che faccio o almeno guardarlo cioè tu dici non mi piace questo video pace va bene non ti piace va bene ma almeno devi cagarlo ok devi almeno cagarlo perché tu non puoi dici non ho letto film completo e allora allora non lo guardo no è no questo qua non ci sta perché se io veramente continuiamo così io ve lo dico con pura sincerità che se continuiamo così cari iscritti io cancello il mio canale perché io non posso andare avanti così perché io i film prima le mettevo e mi mettevo un impegno come uno scemo per metterli per voi non di sicuro per me per voi perché tanto io la cosa la so fare me la faccio per me punto e basta no io queste cose qua anche ogni cosa e non solamente i film infatti io tutti i film scusate tutti i video che faccio che siano tutorial che siano gameplay che siano quello che sia perché io faccio un po di tutto le neanche quasi un per cento mi caga ok ci vengono certe volte con scritto grande ma sei un mito queste cose ma sono tanto così prima erano tanti così ok non ci sta nel cielo in terra questa cosa io non ce la faccio più quindi vi dico se voi tornate come prima cioè che mi cagate di nuovo e mi apprezzate di nuovo come prima e torna normale allora tutto a posto pace tutto a posto ma però se continuate così veramente io cancello il mio canale perché non posso fare dei video per nessuno c'è in senso io faccio un video per il muro e allora no io vuoi fare un video per voi soprattutto soprattutto perché io non non prendo neanche un centesimo per questo è quindi non è per fare visualizzazioni a così guadagni e no non guadagno un centesimo ragazzi anche quando ci avevo tutte quelle visualizzazioni che c'evo 500mila io questi video ragazzi le sto facendo per voi per insegnarvi per farvi felice nel senso per per divertirvi e tutte queste cose infatti se voi guardate i miei video non ce n'è uno che è un fake uno non è un fake infatti sono uno dei pochi youtuber che non dice fake non c'è tutte queste cose come tipo se guardate non lo fate anche su su vbucks tutte queste cose ha guardato trovato un metodo non ne ho fatti perché perché sono tutti fake ragazzi tutti quindi vi dico o torniamo come prima o io cancello il mio canale fate voi la decisione è vostra e poi un'ultima cosa prima di togliere il video voglio dirvi che prima io quando avevo il avevo tutto questo successo diciamo avevo tipo dai cento iscritti al giorno adesso me mi stanno andando indietro se volete una persona che faccia un po di tutto per voi veramente per voi ok e per farvi divertire per insegnarvi tutto iscrivetevi al mio canale se no cancellatevi veramente anzi neanche cancellatevi non cagatemi ancora che io cancello il mio canale bella